e amici di YAP TV è con grande piacere che qui nello stand Yamamoto Nutrition vi presento un altro componente del nostro fantastico team Francesco Montuori ciao ciao ragazzi buon pomeriggio a tutti Francesco Montuori è un nostro pro quindi Francesco visto che comunque adesso ci siamo qui siamo qui nello stand Yamamoto Nutrition presentati cogliamo quest'occasione per far sì che tutti gli amici che in questo momento ci stanno guardando da casa ti conoscano ancora meglio ciao come il tuo percorso ragazzi niente io ho avuto la fortuna di passare nella categoria professionistica e gareggiare in quella che è la terra statunitense ho fatto il mio percorso da amatoriale e penso qualcuno mi abbia seguito in Italia è stato un bel percorso abbiamo fatto gare all'estero comunque da amatoriale e poi a Praga l'anno scorso ho avuto il piacere e l'onore di vincere la categoria Memphisic categoria è assoluto di prendere il tesserino da professionista le mie prime tre gare sono state quest'anno ho partecipato a una gara in America Salt Lake City poi ho partecipato ad una gara a Stoccolma e una gara in Canada il Toronto Pro per quanto riguarda il mio percorso devo dire che è stato fantastico in salita ma poi è arrivata la cosiddetta discesa e ci vuole anche scusami perdonami eh sì ora però la discesa diciamo che sì che portiamo una bella responsabilità perché ora rappresento tutti i miei amici e i miei colleghi amatoriali italiani e soprattutto rappresento quella che è la nostra IFBB Italia all'estero e soprattutto porto quello che è un grande onore lo stemma Yamamoto sulle spalle in quella che sono le terre straniere da conquistare soprattutto Francesco perdonami voglio con te cogliere l'occasione di farti una domanda quanto è importante per un atleta avere uno sponsor che crede in te che quindi ti supporta in quello che è il tuo percorso Alla fine possiamo dire che è quasi il 70-80% lo sponsor perché comunque ti fa sentire più sicuro lo sponsor ti dà quello che è il supporto sia a livello di integrazione sia a livello logistico ti dà un'immagine diversa perché un professionista diciamo che deve avere alcune caratteristiche importanti quelle che sono come diciamo uno sponsor che ti affianca in tutto e per tutto un buon coach e soprattutto una buona mentalità e tanto tanto rigore perché questo sport è fatto di passione e di rigore soprattutto Grazie Francesco parole più belle non le potevi spendere quest'oggi per noi e quindi un saluto a tutti quanti dallo stand Yamamoto Nutrition qui ricordiamo dove siamo perché non è una cosa da poco Ragazzi main sponsor team Yamamoto Arnold Classic Barcellona diciamo che siamo il fulcro centrale di questa fiera che non so se mi spiego da anni 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 è stata caratterizzata da nomi importanti che adesso noi siamo un nome importante non da sottovalutare Esserci è un vero onore un saluto a tutti quanti e continuate a seguirci Ciao ragazzi Ciao